. Ma Lorenzo era una trasmissione di pari. Lorenzo era una persona dolcissima. Si profumava sempre, camminava tutto così. Si è passato da ragazza, come una donna amiccata. Perché lui era poi una prima donna, no? Come si dice, lo trovi in famiglia uno di quelli che fai. Tutti quanti volevano bello. Era famosissimo. Come se non esisteva. Non è che lui accettava la sua diversità. Non la capivo neanche. E' stato effettivamente l'uomo che ha celebrato ogni giorno il Gay Prize da solo. Lei è il Giorgio! Lei è il Giorgio! Lei è il Giorgio! Lei è il Giorgio! Raccione!